All'istituto Maria Ausiliatrice la mostra dei mostri, un'iniziativa degli alunni della scuola secondaria di primo grado, Francesco Sangalli, di cosa tratta questa mostra e come è stata promossa? La mostra tratta del tema dei mostri appunto, visti come degli esseri intermedi. Monstrum in latino vuol dire un prodigio straordinario e l'uomo può essere qualcosa di straordinario, nel bene o nel male. Per cui la mostra ci accompagna proprio nella storia e nel mondo di oggi per vedere come l'uomo sappia scegliere con la sua libertà, quindi se essere un mostro di terrore che porta avanti i genocidi, scelte terribili, distrugge l'ambiente oppure propone delle soluzioni e quindi riesce a rinnovare l'economia, a rinnovare la società, ad avere un occhio per i poveri e per i più fragili. Di fatto tutte le parti della mostra, che sono cinque sezioni, sono state curate dai ragazzi, per cui le nove classi, più o meno sono 200 alunni dell'istituto della scuola media, la scuola secondaria di primo grado, hanno procurato e portato avanti tutti i materiali e tutti i contenuti che sono all'interno. Poi i docenti li hanno organizzati in queste cinque sezioni che propongono un vero percorso all'interno della mostra. La mostra è aperta al pubblico nei pomeriggi da sabato dalle 16.30 alle 18.30 e domenica, lunedì e martedì fino al primo febbraio dalle 14.30 alle 16.30 su prenotazione tramite il sito mostradeimostri.wordpress.com L'enciclica di Papa Francesco Laudato Si è, come potete vedere alla mostra, proprio il filo rosso che lega le riflessioni dei ragazzi per un'ecologia integrale. Credo che il Papa abbia un messaggio profettico rispetto a questo, che i nostri alunni, soprattutto le nostre scuole, ma dovrebbe essere tutte le scuole, devono approfondire, devono conoscere perché davvero ne va del loro futuro.